Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova recensione, questa volta dedicata a una distribuzione molto particolare di nicchia, ma che ha il suo perché di esistere. La distribuzione in questione si chiama Rhino Linux. Nel corso dei mesi molti di voi mi hanno chiesto di poter andare a dare uno sguardo a questa distribuzione. Recentemente c'è stato anche un utente che ha commentato sotto l'ultimo video, sotto l'ultima non recensione, quella dedicata a Ultramarine Linux. Andatevi a vedere a proposito perché vi faccio vedere il perché vi sconsiglio di utilizzare quella distra. Viceversa questa distra è molto al filo, molto degna di nota e ve ne parlo in questa puntata e capirete perché ha un suo perché di esistere questa distribuzione. Allora, Rhino Linux che cos'è? Rhino Linux è una implementazione di Ubuntu però di tipo Rolling Release. Come viene gestito il tutto? Bene, i pacchetti sono presenti, sono presi direttamente dal ramo Devil in sviluppo di Ubuntu, quindi abbiamo tutti i pacchetti costantemente aggiornati. Il tutto viene fatto girare come desktop environment su XFCE, però non è XFCE quello semplice, quello che vediamo normalmente sulle principali distribuzioni Linux, ma è una sua reimplementazione. In questo caso il desktop environment viene stato ribattezzato dal team di Rhino Linux, gli unicorn desktop. Che cosa fanno? I ragazzi di Rhino Linux vanno a prendere XFCE e ci vanno ad aggiungere una serie di personalizzazioni, lato estetico e di funzionalità, che rendono XFCE più moderno. Che cosa significa? Significa che è stato aggiunto un lanciatore nel quale è possibile lanciare sia applicazioni ma anche esplorare le directory di sistema. Abbiamo un upgrade, quindi una schermata con tutte quante le applicazioni che possiamo anche andare a cercare. Quella a tutto schermo, come potete vedere qui nella miniatura, è simile a quella che noi abbiamo su Gnome Shell ad esempio. Abbiamo anche la possibilità di gestire gli spazi di lavoro similmente a quanto già visto su Altridext Shop Environment, come anche in questo caso Gnome Shell. Abbiamo il tiling, la possibilità di attivare il tiling delle finestre. Qui troviamo, potete vedere alcuni shortcut per gestire il tiling. Ci sono dei shortcut che possiamo anche implementare, anzi che sono già implementate per la gestione della ricerca. La visualizzazione dell'upgrade, l'attivazione dell'exposé e quant'altro. Quindi vanno a rifinire XFCE per renderlo più carino, più fancy, più divertente rispetto al solito XFCE. Direte voi perché non hanno utilizzato Gnome Shell? Beh, sapete perché di solito non utilizza Gnome Shell. Gnome Shell è buono e caro, nel senso che necessita di installare diverse estensioni per renderlo più utilizzabile, quindi per avere gli indicatori, per avere alcune funzionalità aggiuntive e compagnie belle. Però questo non fa altro che poi aumentare anche la pesantezza di Gnome Shell. Quindi ben venga la scelta dei ragazzi di RhinoWinx di affidarsi su una base stabile, che è quella di XFCE, che è stabile, che è leggera, anche se poi abbiamo visto che recentemente anche altri desktop environment si sono avvicinati in termini di leggerezza, altamente personalizzabile e, insomma, hanno fatto una buona scelta, a mio avviso, a implementarlo su questa distro. La grande, poi, grande novità, grande idea che c'è dietro questa distribuzione risiede nella gestione dei pacchetti. Viene utilizzato Packstar, per esempio, per impostazione predefinita. Che cos'è Packstar? Packstar è praticamente l'auro per Ubuntu, ci consente di andare a installare facilmente, con pochi comandi, una serie di applicativi che normalmente non sono presenti, ad esempio, all'interno dei repositori di Ubuntu, installare versioni nuove di pacchetti che magari sono un po' indietro su Ubuntu e quant'altro. Funziona similmente a quanto già accade con AUR per Arch Linux. Quindi abbiamo il nostro file, in questo caso si chiama PackScripts, che è simile ai PKGBILS, che contengono i contenuti necessari per andare a, costruire i pacchetti e trasformare i ineseguibili per il sistema. Quindi è davvero, è semplice, è facile e intuitivo installare applicazioni in questo, in questo, in questo, grazie a Packstar. Ma non si ferma soltanto a Packstar, perché, oltre ad avere Packstar, su Rhino Linux troviamo anche la possibilità, ovviamente, di installare pacchetti dai repositori di sistema, quindi dai repositori di Ubuntu, pacchetti dallo Snap Store e pacchetti anche da FlatTab, con i pacchetti in formato FlatPack. E direte voi, come viene gestito tutto sto marasma di possibilità di applicazioni installabili da destra e a manca? viene gestito grazie a un tool che è stato sviluppato dai team di Rhino Linux, un tool chiamato RhinoPKG, che è praticamente un meta package manager che va a gestire il tutto, gestire tutte quante le fonti, e ci consente di gestire tutte queste fonti con una semplice sintassi. Qui possiamo vedere alcuni comandi, RhinoPKG, Update, ci consente di aggiornare tutto, quindi, lanciando questo comando, se noi abbiamo diverse applicazioni installate, quella da Packstar, quella da apt, quella da FlatPack, quella da Snap, con un solo comando li andiamo a aggiornare tutti in massa, quindi è anche intelligentissima questa idea, perché ci consente di non ci stare lì a reincretinirci, andando a selezionare le varie fonti. Chi, come me, utilizza Ubuntu e va a installare applicazioni normali, applicazioni da Snap, applicazioni da FlatTab e quant'altro, sa che cosa mi riferisco, che poi è scomodo andarsi ad andare a vari aggiornamenti. Sì, possiamo mettere su Ubuntu, ci possiamo creare un alias che va a fare un aggiornamento unico con un solo comando, però qui invece è tutto integrato e gestito direttamente dai RhinoPKG. Altra particolarità di questa distribuzione, andiamo a vedere qui anche la gestione facilitata dell'installazione dei driver, dei driver in video, perché è possibile installare i driver in video direttamente con RhinoPKG, quindi RhinoPKG install NVIDIA DKMS, cioè andiamo a installare i driver NVIDIA. Quindi è tutto pensato per facilitare la vita agli utenti. Ovviamente questa non è una distribuzione pensata principalmente per gli utenti nuovi, perché comunque dobbiamo sapere a che cosa andiamo in conto quando andiamo a installare applicativi da diverse fonti e quant'altro, però diciamo così, tutto questo lavoro che hanno fatto il team di Rhino Linux va in ottica di facilitare la vita agli utenti ed è una cosa che nel 2024 non fa mai male. Sì, come dice Riccardo Palombo, non dobbiamo essere troppo fraccomodi, non dobbiamo essere troppo abituati agli automatismi, perché le cose dobbiamo sapere fare, soprattutto se utilizziamo sistemi Linux, però vi dicevo, siamo nel 2024, ogni tanto qualche cosa in maniera grafica è utile anche per poter gestire la nostra macchina, quindi quel mezzo secondo ci può aiutare ad andare un po' più veloci nelle operazioni quotidiane. Ma andiamoci a fare adesso una bella macchina virtuale e andiamoci a installare Rhino Linux e andiamo a dare anche uno sguardo alla distro. Allora, andiamo un po', rilevo automaticamente, ci mettiamo Ubuntu. Ubuntu, prendiamoci questa qua. Tanto è lo stesso, andiamoci a dare, che ne so. 6CPU, quanti giga ce ne andiamo a dare 8, giusto, mettiamo dei numeri a caso, giusto per andare a vedere come far girare il tutto. Grazie a te, dominio. Ecco qua, facciamo partire la nostra bella macchina virtuale. Attendiamo il caricamento di Rhino Linux, vediamo se hanno personalizzato la stemmata di caricamento. Questa è la prima volta che la vedo assieme a voi, vi sto soltanto gli screenshot, l'avevo visto. Ah, su Ubuntu 24.04, quindi appena si avvia, vediamo la nostra schermata, quindi, che non hanno personalizzato. Magari forse in posta di installazione installa qualche pacchetto per personalizzare la schermata di caricamento. Attendiamo il caricamento, sperando che sia breve. Ovviamente qua stiamo facendo girare il tutto su macchine virtuali. Eventuali ralentamenti ci stanno, perché dipende da questo. Ok, ha caricato il nostro bello unicorn desktop su sulla distro, su Rhino Linux. Allora, come possiamo vedere, qui abbiamo una doc, che sarà, forse sarà una tipo una, che cos'è, Plank? Sarà Plank questa qua. Sarà Plank, sì, dai, sarà Plank. Sembra, ha l'aspetto di Plank, quindi sicuro è Plank. Allora, questa è la search bar di cui vi dicevo prima, che ci consente di cercare applicazioni. Per esempio, andiamo a cercarci Firefox. Andiamo un po'. Andiamo a vedere che versione di Firefox è stata installata. Ok, l'ha caricata. Allora, chiudiamo questa scheda, questo pop-up. Andiamoci a vedere. Oh, chi ti ha detto di partire? Allora. Allora, questo già vediamo una cosa interessante. Non è presente Firefox in formato Snap, e non è presente nemmeno quello dei repository, ma è presente quello, praticamente si sono, saranno stati installati di Silo con, in un'altra maniera, sì, sì, perché è stato preso direttamente. Ok. E qui, possiamo direttamente aggiornarci Firefox. Perfetto, quindi Firefox non è in formato Snap. Per tutti quanti gli editori del formato Snap sarà stato messo coppa a cristallo. Allora, questa è la griglia applicazioni. Come vediamo, come vi dicevo anche prima, vi accennavo, è alla gnome share maniera, quindi abbiamo tutte quante le applicazioni che sono preinstallate, che troviamo, ad esempio, che cos'è questo celeste? Questo non lo conosco, celeste. Che cos'è questo programma? Vediamo se è parte. Login. Ah, per il client, per il loggarci di Drive-Ali Cloud. Questo è interessante. Non lo conoscevo questo programma. Che cosa abbiamo più? Abbiamo, abbiamo, abbiamo Quantum Manager, quindi per la gestione dei temi, delle applicazioni, anche quelle in QT. Abbiamo questa qui per i sensori, per vedere un po' il tutto. Il launcher. Andiamo, andiamo avanti che cosa c'è. Your System. Nel frattempo sta qualcuno e sta passando con la moto il giusto modo da passare, quindi, disgraziato. MPV Media Player. E basta che vi andiamo più. Abbiamo VS Codeum. Preinstallato. Abbiamo ovviamente Tunar. Come il... VS Codeum è per la gestione del codice. La versione quella, libera. di Microsoft. Mi sfugge il nome. A questo ora non connetto, scusate. Allora, andiamo qua nelle impostazioni. Allora, vedete anche questa un'altra cosa che vi dicevo prima. Reno Linux, meglio, Unicone Desktop è impacchettato in maniera simile, nell'aspetto, a quanto, a quanto vediamo su, che ne so, su Mac OS. Quindi abbiamo tutti quante i menu che sono spostati nella barra superiore. Quindi qui possiamo andare a vedere le impostazioni. Ed è anche quello che noi vedevamo su Unity, il vecchio desktop environment di Ubuntu. Ed è una cosa che piace molto a molte persone che ascoltano. Vediamo, se non siamo tutti massimizzati, hanno i pulsanti che non entrano sopra, però questa continua a rimanere qui. Vabbè, immagino che sia una limitazione di XFCE. Qui che cosa abbiamo? Questo, tutte quante le notifiche, tutti quanti così, in quegli indicatori, quindi, ok. Questo che cosa è? Questo è, si chiama Your System, qui ci fai delle impostazioni di sistema, ci fai delle versioni di Rhino Linux. Questo che cosa fa? Questo fa l'aggiornamento, Rhino Upgrade, andiamo un po'. Sì, va a fare l'aggiornamento, quindi è possibile aggiornare anche direttamente da qui. Ma vabbè. Andiamoci a installare la distribuzione e andiamoci a fare qualche conclusione una volta installata. andiamo a vedere quale è l'installer innanzitutto che c'è, che hanno deciso di implementare sulla distribuzione. Che installer hanno messo? Cosa hanno messo? Bello, Calamares. Io amo Calamares. Calamares è uno dei migliori installer che esiste sulla faccia della Terra. È semplice, è intuitivo, è in continuo miglioramento. Sempre più distribuzioni stanno adottando questo installer che è cross-distro praticamente non nasce come installer soltanto per una distribuzione ma lo potete installare, lo potete, anzi, i manutentori del registro possono utilizzarlo su praticamente tutte le distribuzioni. È famosissimo se voi utilizzate, che ne so, devo citare inizialmente la lingua italiana qui, se noi lo utilizziamo, utilizziamo Endeavor, Essent, utilizziamo Mangiaro, utilizziamo anche l'ultima versione di Debian perché l'ultima versione di Debian come installer grafico hanno Calamares. Quindi è un installer completore che a mio avviso dovrebbe essere lo standard degli installer degli installer perché vedete, lo sappiamo, ogni distribuzione si fa l'installer sua, quello di Ubuntu che recentemente è stato aggiornato che io odio, quello di un installer di Ubuntu. Troviamo poi OpenSUSE che è il proprio installer, Anaconda l'installer che troviamo su Fedora che fa spaventare a tutti quanti quell'installer anche se vi devo dire la verità, Anaconda tutti quanti hanno paura però una volta capito il concetto di come gestisce l'installazione è facilissimo anzi crea meno sbattimenti rispetto ad altri installer come quello di Ubuntu l'ultima versione dell'installer di Ubuntu quindi anche GG per questa cosa qui. English US andiamoci a mettere anche la tastiera così ecco qua questo è il layout che utilizzo io andiamoci a installarla andiamo a vedere anche se c'è un post install o qualche cosa del genere RIDOM 1 2 1 2 3 4 mettiamo password sempre difficilissime andiamo avanti ok oggi ci fa vedere che hanno personalizzato e ci fa vedere anche un'altra cosa che mi era sfuggita il fatto che gestisce anche applicazioni in formato AppImage e che non sono preattivate quindi ci fa vedere che c'è un selettore per poter abilitare snap per poter abilitare flatpack e per poter abilitare le applicazioni AppImage questa è anche una cosa interessante e carina l'hanno pensata bene questa cosa perché non tutti piacciono le applicazioni in formato snap quindi ci sta che lasciano l'utente la possibilità di abilitare o meno questa fonte per quanto riguarda l'installazione qui possiamo vedere che è un po' di schermate ad esempio qui ci fa vedere tutti quanti i temi che sono stati messi c'è il solito Yaru come tema nella versione purple quindi però vedete anche questa è un'altra di quelle cose che mi sta piacendo questa non l'ho notata subito però non utilizzano un tema di icone che va a modificare le applicazioni i temi di icone e le applicazioni di terze parti che significa che Firefox ha la sua icona quindi non ci vanno a mettere un'icona orribilante per Firefox questa cosa mi piace perché così rispettano anche gli autori dei relativi delle applicazioni ma questo ci metterà tempo se non tu vuoi installare si mettiamo un attimo in pausa è tutto e ci rivediamo non appena finisce l'installazione altrimenti vi annoio vi stiamo qui per ore e ore e ore a parlare e poi finiamo anche le cose da dire ci vediamo fra poco allora eccoci qui ha terminato finalmente l'installazione adesso possiamo riavviare la nostra macchina virtuale il luogo di rhino finalmente quindi evidentemente forse era un bug della iso quindi all'inizio non caricava il luoghetto di rhino nella iso installer andiamo a vedere un po' se se si riavvia il tutto immagino che si bloccherà tutto con la mia solita fortuna attendiamo il caricamento su su che si è bloccata la macchina virtuale si è bloccata la macchina virtuale ok beh cast aspettiamo qualche altro secondo se no forziamo il riavvio forziamo il riavvio ma si forziamo il riavvio che potrebbe essere che cosa potrebbe succedere ok ok oh rhino rinox abbiamo adesso la schermata durante il caricamento bene bene quindi ah ecco la schermata di login e andiamo a avviare rhinox vediamo se viene riconosciuta risoluzione perfetto ancora qua schermata di benvenuto questo è un tool che ovviamente non vi potevo mostrare prima nella live ecco iniziamo we comment è tedesco perché noi siamo in italia perché c'è scritto we comment si è bloccata tutta si è frizzato l'interfaccia no sta caricando ah ecco perché li fa in diverse lingue clicchiamo su iniziamo vediamo 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 we comment è bloccata no vabbè che è lo metto a tutto schermo e si blocca ah ma si è ripreso allora vabbè non fate caso a questi bug che saranno sicuramente al 99% dovuti alla macchina virtuale qui ci fa scegliere appena installiamo la distro quale schema voglio utilizzare quello chiaro o quello scuro io metto quello chiaro perché quello scuro non lo posso proprio digerire ecco qui qui e come vi dicevo prima durante l'installazione di rhino linux abbiamo visto una schermata dove ci faceva vedere che i vari pacchetti in formato snap flat pack e app image non sono abilitate per impostazione predefinita adesso noi andiamo a farci nel mare andiamo a abilitare il tutto ok ah è carina questa cosa che ci fa anche scegliere per quanto riguarda i pacchetti in formato flat pack se utilizzare la versione stabile oppure quella beta qui altre impostazioni aggiuntive i seguenti settaggi sono opzionali non modificare nulla se non sai che cosa stai facendo una interfaccia alternativa per apt con una bellissima UI che è quella che abbiamo visto prima durante l'aggiornamento github github che è un vabbè questo non ci interessa non lo abilitiamo apporto non lo abilitiamo lasciamo come dice questo noi siamo questo ci chiede la nostra password per applicare le modifiche attendiamo il caricamento attendiamo mentre le modifiche vengono apportate e andiamo a dare uno sguardo alla list anche se l'abbiamo vista già prima se andiamo a vedere se magari andiamo a vedere proprio la gestione degli aggiornamenti come l'abbiamo vista prima ci sta a mettere tanto tempo aspettiamo un altro po' ok altra password riavviare adesso quindi abbiamo bisogno del riavvio probabilmente perché abbiamo abilitato anzi sicuramente perché giustamente abbiamo abilitato flat pack quindi necessitiamo di un riavvio per far funzionare il tutto perché lo snap se non ricordo male non richiedeva il riavvio una volta installato ok poi voi lo dite perché dice della botte perché tutti i tuoi togli bug si è bloccato tutto si è bloccato tutto mi è crashato un punto perché chissà se sta ancora registrando allora voi non avete visto niente quindi sono rivisto nel video e ovviamente OBS non ha registrato la finestra di crash di errore di Ubuntu quindi rilangiamo la macchina virtuale perché è crashato tutto e avrei voluto far vedere anche la schermata di errore però purtroppo non ve l'ha registrata il bello di essere Marco perché io tutti io li trovo in bug ve lo lascio ve lo lascio la parte dove stavo per mettermi a piangere rifacciamo partire rifacciamo partire la nostra Rhino Linux sperando che non crashi nuovamente il sistema in maniera brutta rieccoci allora qui su Rhino Linux su questa su questa listra e andiamo a vedere quindi oltre alla schermata dicevamo del post install adesso abbiamo la nostra bella applicazione installata andiamo a vedere subito di aggiornare il sistema e aggiorniamolo tramite il tool direttamente messo a disposizione in your system di Rhino Linux mettiamo la nostra filata password che abbiamo scelto prima e andiamo a aggiornare tutto qui come possiamo vedere sta facendo e qui possiamo andare a vedere quali sono i repository che vengono utilizzati quindi ubuntu devil non vengono messi i repository aggiuntivi e questa è anche una cosa positiva che bello vi fa vedere durante l'aggiornamento del sistema che cosa va a fare sta aggiornando pipeware vediamo se vediamo qualcosa relativa all'aggiornamento di di firefox perché come abbiamo visto prima era una versione un po' vecchia di firefox qui sta aggiornando tutto gli streamer questa l'ip pipeware insomma gli aggiornamenti classici di sistema nel frattempo facciamo si ne perfettiamo anche per andare a vedere un'altra cosa verifichiamo che ci sia soltanto sta per crescere tutto nuovamente già me lo sento tra poco crescerà tutto male se non è già cresciato tutto ah no no si stava stava soltanto pensando la macchina virtuale ecco qua sta finendo di aggiornare tutto pack style quindi adesso sto facendo la fase di aggiornamento dei pacchetti pack style e come vediamo c'è anche firefox che era stato aggiornato da pack style me ne ho accorto prima che non era giustamente la versione da repositor e del quant'altro qui possiamo vedere quindi il tool qui il tool grafico sta facendo esattamente quello che avrebbe fatto di aggiornamento dando il comando rhino pkg update quindi in questo caso il tool grafico sta facendo tutto l'aggiornamento con un solo comando qui sta aggiornando firefox sta finendo di aggiornare firefox perfetto ok dovrebbe aver finito dovrebbe darci qualche schermata e dice ho finito vediamo un po' se dice così oppure non fa niente dobbiamo vedere se installa qualche pacchetto in formato snap perfetto non c'è niente qui nel frattempo ci ha detto che tutto è stato aggiornato correttamente quindi come avete visto il tool grafico di in questo caso grafico ma è la stessa cosa se lo lanciamo tramite terminale rhino pkg è andato ad aggiornare prima le applicazioni dai repository della distro e poi successivamente è andato ad aggiornare i pacchetti installati in maniera alternativa come in questo caso firefox che era installato mediante mediante packstag bello mi piace mi piace questa cosa qua mi piace mi piace tantissimo andiamo un po' ok switch passi in italiano salta questo passaggio inizia a navigare bello bello mi piace mi piace mi piace questa cosa andiamo a vedere marcos box nel frattempo e firefox come vi dicevo installato direttamente dalla fonte bella questa cosa adesso andiamo a dare un ultimo sguardo a un'altra cosa che non avevo visto prima ma comunque abbiamo visto adesso accennato durante le fasi di aggiornamento andiamo a vedere quali sono i sono sostremi dei pacchetti dei repository aggiuntivi sudo nano vediamo allora etc apt source prendiamo punto list è l'unico vediamo source punto list che cosa ci sta qua dentro nel source punto list abbiamo soltanto i repository di ubuntu ramo devil perfetto non troviamo nient'altro usciamo andiamo a vedere se c'è il sas punto list punto di che cosa c'è qua dentro qua dentro non c'è niente perfetto quindi abbiamo solo quello come repository base mi piace questa cosa mantiene la distro almeno sotto questo punto di vista pulito non ci sono repository aggiuntivi le cose che mancano come per esempio firefox in formato quello tradizionale non in formato in formato in formato snap come su ubuntu e andiamo a vedere anche la wiki è installato in questo caso direttamente dalla fonte quindi non c'è il repository aggiuntivo non c'è nemmeno il repository aggiuntivo di quello direttamente mantenuto da mozilla ci stava ci stava a mio avviso che potevano utilizzare anche i repository aggiornato mantenuto da mozilla però anche in questo caso questo si va a compiare a scaricare e si rende eseguibili direttamente dalla fonte a pacchistare quindi va benissimo così va benissimo così andiamo a vedere soltanto l'ultima cosa meno r e kern 6.9.1 ma che dire che dire non lo so che dite l'aistaglio come distribuzione principale sulla mia macchina potrebbe essere potrebbe essere la fine del mio distropping quindi mi installo questo e non mi installo nient'altro per mesi e mesi e mesi mi piace questo approccio che hanno utilizzato i ragazzi del team di rhino linux per per questa distribuzione è una base ubuntu abbiamo supporto a tante guide che sono state fatte per ubuntu abbiamo applicazioni è possibile installare applicazioni sia da repository che da pack install quindi abbiamo visto è possibile installare una sterminata categoria di applicazioni con pack install abbiamo accesso anche a app image a flat pack a snap e chi più ne ha più ne metta abbiamo un sistema che ci consente di aggiornare tutto tramite un singolo comando o anche tramite interfaccia grafica quindi beh beh mi piace mi piace mi piace questa questa approccia la lista vediamo se è installato qualche applicazione nel post install ma non vedo nulla di 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 diverso oltre alla live si infatti è giusto quello che abbiamo già visto in live è inutile che vi faccio vedere tutte quante le impostazioni di informazioni su xfce cioè alla fine è il solito xfce quindi non c'è nulla da da vedere qui hanno personalizzato soltanto il tema grafico più tutto quanto il desktop environment come abbiamo visto con l'aggiunta della doc con quindi con plank con l'upgrid con questo qua il lanciatore delle applicazioni hanno fatto dai hanno fatto un bel lavoro dai mi piace questo approccio mi piace questa rhino linux mi piace davvero tanto è una distribuzione questa a differenza di faccio un po' di dissing a differenza di ultramarine linux questa è una distribuzione che ha senso di esistere perché offre qualcosa di diverso qualcosa che non è già stato visto in mille salse qualcosa che vale la pena provare fatemi sapere voi se voi avete provato rhino linux se vi piace questa distribuzione se se la installare sarà installa in rete nei prossimi giorni giusto per per provarla fatemi insomma lasciatemi un commento qua in basso io vi dico che per me questa distribuzione è approvata da marcos box e se non me la installo nei prossimi giorni quasi sicuramente ma lascio su macchina virtuale per seguire lo sviluppo perché è davvero davvero interessante gg per il team di rhino linux promossa al prossimo video lunga vita e prosperità a tutti quanti e ciao ciao